Noi abbiamo stabilito un contatto diretto con l'amministrazione tant'è che è pronto il tavolo tecnico operativo insieme agli assessori alla mobilità e alla polizia municipale nonché al comando dei vigili urbani per cercare di stimolare l'amministrazione a compiere delle azioni che vadano nel senso della sicurezza dei pedoni e dei ciclisti. Quindi le nostre proposte saranno assolutamente concrete e sempre nel rispetto da parte di tutti del codice della strada. Tutti i nuovi progetti che stanno cominciando a realizzarsi ci sembrano che vadano assolutamente in direzione contraria rispetto proprio alla sicurezza dei cittadini. L'ultima di cui abbiamo avuto notizia è stata quella della ristrutturazione della strada davanti al pronto soccorso dell'ospedale civile di Pescara che assolutamente ignora i ciclisti. Strada Parco, qual è la situazione? Vi eravate battuti quest'estate per non far parcheggiare le macchine proprio sulla strada Parco. Ma il futuro della strada Parco, il futuro prossimo quale sarà e quale potrebbe essere secondo voi? Guardi, vanno in giro come sappiamo tutti mille voci. Sembra che il Comune abbia stanziato molti soldi per ristrutturare la pista ciclabile della strada Parco. Noi siamo convinti che quella debba essere una zona salvaguardata da un sacco di punti di vista. Ma il problema non è solo la strada Parco. Il problema è la gestione della mobilità che in questa città va verso la tutela dei parcheggi, quindi di un aumento ovviamente del traffico e quindi di tutti i pericoli derivanti proprio fisici e pericoli proprio per la salute, per l'inquinamento che determina l'automobile. Grazie.